Per me è un paradiso, sono stato qua tempo fa, poi sono tornato e abbiamo deciso appunto di comprare una casa. Mi piace il cibo, mi piace il paesaggio, mi piace la gente, insomma qua sto bene. Marky Ramon, storico batterista dei Ramones, ha scelto Castiglion Fiorentino come sua nuova casa. La rock star, vero nome Mark Stephen Bell, classe 1952, è una leggenda della musica, membro per circa 20 anni di Ramones, la banda new yorkese che ha lanciato nel mondo il punk rock. Dalla Grande Mela adesso al centro storico di Castiglion Fiorentino per il Buen Retiro in provincia di Arezzo. Tutto è iniziato tramite Ringo DJ di Virgin Radio, con il quale avevano fatto un evento e lui aveva suonato addirittura sulla cima della torre. In quell'occasione si era reso conto che qua fosse veramente un bel posto, un posto tranquillo e siccome lui ha detto io mi muovo molto spesso per i concerti, insomma delle volte sono veramente anche sconvolto, insomma molto stancante. Questo posto è molto differente dalla propria abitazione principale che è a Brooklyn, a New York, dove i ritmi, la frenesia, la confusione, insomma. Qui è proprio l'opposto e quindi aveva deciso, ecco, avevano detto fin dal primo momento in realtà questo potrebbe essere un buon posto per stare e rilassarsi. Ad aprile poi aveva assistito allo spettacolo di Pupo al Teatro Spina. Era così scoppiato l'amore per questi luoghi. Ho conosciuto Marchi Ramone nella veste di artista, di batterista proveniente dagli Stati Uniti d'America che arriva a Castiglione Fiorentino per un evento e poi da questo evento nasce una frequentazione che lui ha fortemente voluto con la moglie per imparare a capire la vita di Castiglione Fiorentino e della Toscana in generale. Gli è piaciuto molto e da lì è nata proprio la volontà decisa di acquistare una casa a Castiglione Fiorentino.